And's hi guys, I'm Hendrix and today come potete vedere siamo qui su Minecraft My Modpack Episodio 1 Oggi episodio senza webcam, dalla prossima settimana reinizierò con la webcam ovviamente E niente, allora raga, una cosa che ho scoperto appena entrato in questo modpack ora Proprio sono entrato ora, ho notato questa cosa qui Prendiamo del legno, dov'è del legno? Allora prendiamo questo qua Meraviglioso Oh dai, io voglio un bacetto Cosa, cosa, cosa succede? Perché sta facendo questa cosa qui? Ok, devo cliccare il destro, vabbè comunque Allora questo qui, non mi ricordo, intanto vabbè non mi ricordo, cioè ho fatto delle cose Ah ok, 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 sì sì, questi qua, allora All'inizio ho aggiunto una mod che ci dà queste cose qui Che non ci danno più il legno normale, ma ci danno legno e corteccia Niente raga, aspetta, sì ok, raga Cioè, cioè vi capite vero che state capendo E sto a morire, sto a morire male, sto a morire male Non voglio morire, grazie Cioè, state capendo questa cosa qui Cioè, capite questa cosa qui vero? Ah, e un'altra cosa, se stiamo troppo al buio Devo mangiare perché non ci vedo più niente Se stiamo troppo al buio Datemi qualcosa da mangiare Una carota va bene Se stiamo troppo al buio Arriverà un mostro che ci ucciderà Essenzialmente Una patata va bene Basta che mangiamo Ok, rieccomi raga Scusate per l'intoppo E che non so cosa Cioè, in realtà so cosa è successo Però Caccavo Ah Con la redstone Ok, non possiamo fare la pressure plate Volevo fare la pressure plate per questo Però vabbè, ok Perfetto Eh, raga Allora Ora sono le 13.40 Non è possibile che siano le 13.40 Tizio Ah, no Ma mi dice l'orario normale L'orario vero E io che ne so C'è un pigman Fantastico Eh, meraviglioso Un pigman con la spada di diamante Perfetto proprio Meraviglioso Meraviglioso Un coso che mi potrebbe uccidere Ma Ce la facciamo salire? Sì, grazie E invece no Mi da questi qua Mori 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 Ok, ehm Allora Io ho fatto il pacchetto In modo che fosse difficile Ma non troppo Cioè nel senso che ci aiutasse E in effetti Devo dire che Un pochino ci aiuta Non troppo Perché non ci aiuto troppo Ma ci aiuta Ho messo la Wila Ma sembra non funzionare Comunque, allora Qui c'è del Soudas Cosa si fa con la Soudas? Ah, la paper La dinamite La Faito Grow Non so come si pronunci Scusate E poi Crasha Cosa ci posso fare Scusami Posso bruciarla Posso bruciarla E posso bruciarla Essenzialmente Io vi ringrazio per la visione Vi ricordo come sempre Di lasciare un mi piace Commentare Condividere E guardate lui Che tira i pugni Mamma mia È un po' bagatina Questa Questa cosa Se devo essere sincero Cioè sembra che laghi In effetti In effetti Sta un po' laggando Sono No vabbè Sono a 60 frame Quindi no Niente And it's cutie Ciao a tutti Ciao a tutti